Spero di rivedere come gioco anche quello di Campobasso, ovviamente cancellando quelle amnesie che abbiamo avuto, che ci hanno fatto prendere tre gol sul calcio piazzato, quindi quelle cose dobbiamo eliminare. Io voglio rivedere il Francavilla di mercoledì, un Francavilla molto compatto, concreto, che è andato in vantaggio e poi si è difeso bene, quindi un Francavilla intelligente. Domani non sarà una partita facile perché affronteremo una squadra importante, una squadra che si è in difficoltà però ha dei buoni, ottimi giocatori, quindi ci sarà da sudare. Giocheranno in casa e quindi vorranno riscattarsi dall'ultima partita non fatta bene, ma poi conosco l'allenatore Palladini, Ottavio, molto bravo e secondo me, comunque ripeto, è una squadra di assoluto valore. Sicuramente abbiamo l'obiettivo di vincere la partita, ma sappiamo che la partita non sarà facile, perché la Francavilla non ha una squadra, quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo avere la pazienza e soprattutto quello che ci sta mancando adesso è quella cartiveria agonistica che serve per vincere i partiti. Al primo errore veniamo puniti e poi da lì diventa tutto più difficile mentalmente recuperare la partita, quindi vogliamo e dobbiamo fare una partita maschia perché Francavilla è una squadra tosta. L'assenza di Alessandro per noi è importante, per caratteristiche non abbiamo un altro giocatore con le stesse caratteristiche, dobbiamo cercare di recuperare anche i palestini, un altro giocatore che ci può dare qualcosa in questo momento, però domani che ci entra in campo dovrà lottare fino alla fine, perché solo così possiamo fare una buona prestazione.